Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del Tg di 3B. Tanta carne al fuoco oggi, ma tanta pioggia soprattutto che finalmente torna a interessare le nostre regioni. Immagine dei satellite, qua c'è l'Italia sotto questo sistema nuvoloso. Questo è il Mediterraneo, finalmente non si vede il nostro paese, dico finalmente perché sul serio la siccità delle ultime settimane è stata pesante nelle regioni centro-settentrionali. Vediamo quest'altra immagine un pochino più concentrata sull'Italia, ancora una volta facciamo fatica a riconoscere i contorni della nostra penisola, insomma è tornata molta nuvolosità e stanno tornando anche delle piogge. Lo vediamo anche dalla previsione per le prossime ore con precipitazioni soprattutto nell'Italia centrale, ma piogge anche su parte del nord, anche se non particolarmente intense ma è già un inizio. Al sud invece sì, qualche nuvole, qualche piovasco anche lì, ma in forma più isolata e non mancano neanche delle parziali scherette. Tra l'altro con un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, quindi venti di scirocco, infatti non fa freddo per ora. Il calo delle temperature è dovuto solo a nuvole e precipitazioni. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Bassa pressione sul nostro paese. Lo vediamo da queste mappe un pochino più tecniche, le macchie azzure rappresentano le precipitazioni che a più riprese interessano la nostra penisola tra giovedì, venerdì e anche in parte nel weekend. E allora più nel dettaglio, giovedì, cosa accadrà? Ancora precipitazioni abbastanza diffuse, anche se al nord ovest avremo un'attenuazione delle precipitazioni e anche all'estremo sud non mancheranno delle schierite, se però ombrello a portata di mano, non mancherà anche qualche temporale sul versante tirrenico e qualche fiocco di neve in montagna. Venerdì ancora molta variabilità con un calo delle temperature che porterà dei temporali anche su parte del nord e nevicate oltre i mille metri, anche piuttosto diffuse, sull'arco alpino. Chiudo con una cenna al weekend che sarà ancora in segna della variabilità con quest'aria fredda che si farà sentire sempre di più. Insomma, situazioni davvero molto variabili a questo punto per capire da voi che tempo farà in fine conti, vi consiglio di scaricare e consultare l'app gratuita di Trevi Meteo.